sta diluviando aspettiamo un po perché vedendo il tempo per questo weekend credo che i piani siano andare a fare la spesa prendere i viveri per due giorni e non uscire di casa chino adesso dobbiamo aspettare un po che smette un po che smette un po che smette siamo sporcati ci siamo sporcati e con te parlo non far finta di non sentirmi cosa hai fatto ti sei rotolato sulla terra guarda 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 che faccia da schiaffi ciao ragazzi eccoci qui allora ragazzi se questo video vi piace mi raccomando sempre cliccate mi piace e scrivete un commento sotto a questo video qua noi ci vediamo al prossimo video da Cilomangine è tutto ciao bella raga ciao ciao ciao